Buongiorno, sono Valerio, abito a Mosca e faccio l'interprete da libero professionista. In questo video vi offro il servizio di interpretariato nel formato di videoconferenza via Skype. Ormai è tutto più semplice. Potete chiamarmi a questo numero, vi comunico il mio Skype Nick, vi accordate con il vostro partner russo circa l'orario in cui organizzare le conferenze su Skype e io vi farò da interprete nel tempo reale. Naturalmente, se necessitate di un interprete da Mosca, non esitate a contattarmi. Saluti e a presto!